Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Visto che il canto è così apprezzato, tanto vale approfittarne anche a lezione. Oggi avremo una canzone bellissima. Un travolgente successo del grande Gianni Moragno. Farò schifo, ma ci provo. 3, 2, 1, parto! L'orologio battelone? Tu sei fuori chissà dove? Ritenuto per la casa? Dimi tu se questa è vita! Tu che esci con le amiche, dici! Io che resto qui a pensare? Ora! Sei povero per davvero? O ti vedi con qualcuno? Banan... no, non è vero. Banane! Mamma mia ragazzi! Uno questionato dell'altro! Chi c'era con te? Beh, diciamo che sull'intonazione c'è ancora molto da lavorare.